Secondo video dedicato alla Milano Digital Week e se nello scorso abbiamo parlato di come il mondo della mobilità si integrerà con le nuove smart city, oggi parliamo di come le aziende in generale potranno interfacciarsi con questo nuovo mondo. E lo facciamo partendo in particolare dal concetto di Digital Twin, ossia gemello digitale. Con questo termine ci si riferisce infatti a una replica digitale degli asset, sistemi o processi fisici di un'azienda. Ma non si tratta solo di questo, in quanto questo gemello digitale integra al suo interno anche sistemi di intelligenza artificiale, machine learning e software di analisi che lavorano su dati ricevuti da modelli simulativi digitali che variano e cambiano in accordo alle corrispondenti controparti reali. Infatti attraverso tutti questi dati, che arrivano non solo da macchine o dall'ambiente in cui si trova, ma anche da veri e propri esperti dell'azienda, come possono essere ingegneri, questa replica aggiorni continuamente se stessa imparando anche dalle mutazioni che essa stessa subisce. In poche parole è un po' come se apprendesse il comportamento della nostra azienda. Ed è proprio infatti per questo che in molti settori dell'industria il Digital Twin viene utilizzato per capire come poter ottimizzare i processi di funzionamento, ma anche di mantenimento dei processi fisici di produzione dell'azienda. Ma in un'ottica più ampio respiro, questo gemello digitale può essere utilizzato anche per creare dei veri e propri servizi a servizio dell'utente finale, quindi noi, persone comuni, che non necessariamente facciamo parte dell'azienda. Ed è proprio da questa idea che è nato l'ecosistema digitale E015. Si tratta di un ambiente digitale in cui ogni soggetto aderente, che può essere un'azienda, un'ente o un'associazione, può o mettere a disposizione un proprio contenuto informativo che desidera rendere disponibile e accessibile all'interno dell'ecosistema, o utilizzare dei contenuti informativi condivisi da altri soggetti all'interno dell'ecosistema, per creare delle applicazioni proprio pensate per gli utenti finali. Trenitalia, per esempio, ha già tutte le informazioni relative ai ritardi o al binario su cui arriverà un particolare treno, che formano un proprio contenuto informativo che sarà contenuto all'interno del Digital Twin di Trenitalia. Questo contenuto informativo, io come Trenitalia, posso decidere, cosa che tra l'altro ha già fatto, di condividerla all'interno di E015, quindi sedermi al tavolo della discussione dalla parte di chi mette sul piatto i propri contenuti informativi, e una volta reso questo mio blocco informativo conforme alle regole di questo ecosistema digitale, il supervisore dirà «Ok ragazzi, c'è disponibile questo nuovo pacchetto». Dall'altra parte del tavolo ci potrà essere per esempio il comune di Milano che dica «Io voglio utilizzare questi dati per inserirli all'interno di un servizio del mio sito web o di una mia applicazione». Attenendosi quindi sempre alle regole dell'ecosistema, quest'altro ente creerà un'applicazione utilizzando i dati condivisi dall'altro ente, arrivando così a creare applicazioni innovativi per noi utenti finali. Vi lascio un po' di esempi di tutti questi servizi che già sono nati attraverso questo ecosistema tutti qui sotto in descrizione. Dateci un occhio perché ci sono cose veramente molto interessanti e di cui poche persone sono a conoscenza, io in primis, se non fossi andato a questo incontro della Milano Digital Week non avrei mai saputo dell'esistenza di tutti questi applicativi che per esempio permettono di vedere le liste d'attesa nel reparto pronto soccorso degli ospedali di tutta la Lombardia. Quindi ripeto, mi raccomando, dateci un occhio. E per concludere, questo è comunque un fatto interessante che fa capire come l'Italia, anche se magari più lentamente di altri paesi, si sta comunque muovendo. È solo che molte di queste iniziative vengono pubblicizzate veramente poco.